Anche nella famiglia della musica arriva il mobile. Quando troviamo il telefono mobile dentro della famiglia della musica? È il piccolo dot che a volte troviamo dopo le notte. Che rappresenta il dot dentro della famiglia della musica? Il dot aggiunga un po' di peso alla notte. Facciamo un esempio. Se il padre usa il telefono mobile, cosa significa? Significa che il peso del padre, che è 4 kg, più un po' di peso, che è 2 kg, il risultato è 6 kg. Se la madre della famiglia della musica usa il telefono mobile, cosa significa? 2 kg, il peso del madre, più un po' di peso, 1 kg, 3 kg. 2 kg, il peso del madre, più un po' di peso. 2 kg, il peso del madre, più un po' di peso. 3 kg, il peso del madre, più un po' di peso.